Da qualche tempo soggiorna nel mio salotto un TV Samsung 8K, per la precisione si tratta del Q950T, annunciato lo scorso anno, proprio in questo periodo, per il CS e distribuito a partire dalla primavera. Un prodotto incredibile per il suo design, sostanzialmente borderless, che Samsung definisce Infinity, ma soprattutto per la qualità e la risoluzione del pannello 8K. A pensarci mi fa quasi strano se penso che solo tre anni fa acquistavo per la prima volta un TV 4K e già mi pareva una rivoluzione. Ma basta chiacchiere e veniamo subito al sodo. Come mi ci sto trovando? Vi rispondo subito, molto bene, ma soprattutto che cosa posso già vedere in 8K? Ha senso nel 2021 acquistare un TV con questa risoluzione? Beh, ve lo racconto subito. Partiamo dal presupposto che si tratta di domande alle quali probabilmente tra un annetto o, diciamo, due al massimo, non sarà più neanche necessario rispondere. Un po' come successo per il passaggio dal Full HD al 4K, infatti anche questa transizione sarà, a mio modo di vedere, molto più rapida di quello che ci si può attendere. Ma detto questo cerchiamo di capire in che modo possiamo già sfruttare un pannello di questo genere con questa risoluzione così elevata. Iniziamo subito col cosiddetto botto, ovvero il gaming in 8K. La nuova generazione di console è la prima, infatti, in grado di supportare questa risoluzione. PS5 e Xbox Series X vi permetteranno quindi di giocare in 8K e di sfruttare le potenzialità della vostra TV in maniera estremamente semplice, direi quasi plug and play. Tutto ciò sfruttando le potenzialità nel trasferimento dei dati della HDMI 2.1, a cui abbiamo tra l'altro dedicato un approfondimento che vi lascio linkato qui sotto in info box. Ma non solo, anche le ultime schede video Nvidia della serie 30, in particolare la 3090, supportano la risoluzione 8K e permettono quindi di vivere un'esperienza di gioco estremamente coinvolgente. Io ho la fortuna di avere tra le mani una MSI 3090 Supreme X che mi ha permesso di far girare titoli come Forza Horizon 4 e Marvel Avengers in 8K, godendo di una qualità e di un dettaglio grafico davvero pazzeschi. Sfrecciare tra i paesaggi delle coline inglesi o fare a botte con Bruce Banner nei panni di Hulk, ve lo devo dire, non è mai stato così divertente. A tratti sembra di essere davvero immersi all'interno del gioco. Giocare in 8K è sicuramente quindi una delle esperienze più interessanti da vivere oggi con un TV di questo tipo e in questo senso è certamente anche la novità più importante dell'ultimo periodo. Non dobbiamo però dimenticare tutto il resto. Ad esempio YouTube, che già da tempo propone una libreria sempre più folta di contenuti in 8K. Si passa da video documentari sulla natura, a riprese aeree delle metropoli, fino agli highlights di alcune partite di calcio. E proprio a proposito delle partite di calcio vi posso dire che il realismo che si raggiunge è davvero incredibile. Se riuscite ad estranearvi da quello che vi circonda per qualche secondo un'operazione tra l'altro non poi così complessa di fronte a uno spettacolo simile, vi sembrerà a tratti di vivere in prima persona questa esperienza che state in realtà soltanto osservando dall'esterno. Il livello di dettaglio è elevatissimo e l'immersività appunto è il fattore che sicuramente più vi colpirà. Tutto questo è possibile anche grazie al codec AV1 che consente di trasmettere questi flussi di dati necessitando di una banda tutto sommata diciamo così accettabile. Diciamo che per godere di un video 8K su YouTube senza intoppi occorre una connessione con una velocità in download di almeno almeno 40 megabit al secondo. Oltre al gaming e ovviamente a YouTube come abbiamo appena detto non dobbiamo poi dimenticarci dei contenuti autoprodotti. Riprendere video 8K è infatti ormai alla portata di tutti. Come? Beh, semplicissimo, con lo smartphone. Tanti dei prodotti top di gamma annunciati nell'ultimo anno offrono infatti questa caratteristica che sicuramente presto arriverà anche sulla fascia media diventando così ancora più popolare. Siete quindi pronti a vedere i filmini delle vacanze oppure a rivivere l'emozione di una gita fuori porta in 8K sulla TV del salotto? Ma non finisce qui perché oltre a questi contenuti sempre a vostra disposizione in qualsiasi momento non mancano e non mancheranno poi eventi e iniziative speciali occasionali che permetteranno di sfruttare al massimo la risoluzione delle TV di ultima generazione. Un esempio sono le Olimpiadi di Tokyo che saranno trasmesse da Mamma Rai, pensate un po', in 8K via satellite, un po' come avviene ora per gli eventi trasmessi in 4K. Ho ancora la terza stagione della serie TV DustBot che sarà disponibile su Sky in 8K e Dolby Atmos a partire dal 2022 ovviamente tramite il set of box SkyQ. Per gli amanti dei documentari e dell'arte sono poi disponibili su Cili una serie di contenuti sviluppati proprio in collaborazione con Samsung che sono stati creati per sfruttare le potenzialità offerte da una risoluzione così elevata. Tanti tantissimi dettagli, inquadrature mozzafiato per immergersi ad esempio tra i sassi di materia oppure in un viaggio tra le stelle e i pianeti. Come vedete siamo quindi di fronte ad un processo di transizione che è già partito e che subirà secondo me una forte accelerazione nel corso dei prossimi diciamo due massimo tre anni. Non appena saranno disponibili dei codec in grado di rendere accessibili ad un pubblico molto più ampio ad esempio i contenuti in streaming. Credo proprio che vari Netflix, Prime Video, Disney Plus non stiano aspettando altro e cominceranno a proporre sicuramente tante produzioni in alta risoluzione. L'ostacolo più grande non è infatti attualmente secondo me la realizzazione dei contenuti, già tanti dei contenuti vengono girati in 8K, quanto proprio la loro distribuzione. Da qui a considerare mainstream questa tecnologia ovviamente passerà ancora del tempo ma per chi può già permettersi una TV 8K e può avere accesso a questi contenuti che ho appena citato dire proprio che l'acquisto di un prodotto di questo tipo ha a mio modo di vedere assolutamente senso anche nell'ottica di essere pronti poi per quando i tempi saranno effettivamente e completamente maturi. Dopotutto salvo casi eccezionali non vi capita certo tutti i giorni e diciamo nemmeno tutti gli anni di cambiare la TV. Se questo video ti piaciuto mi raccomando lascia un bel like qui sotto, dimmi qui nei commenti cosa ne pensi tu di questi nuovi TV 8K, se è già arrivato il momento di cambiare la tua TV o seppure aspetterai ancora un pochino di più, io vi lascio qui sotto in descrizione poi ovviamente l'articolo con qualche informazione e qualche dettaglio in più, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Ciao!